Sì, infatti, mi dispiace per questa partita, perché in ogni set eravamo fino a 12-13, poi abbiamo mollato sempre un po', abbiamo perso qualche palle, quello che potevamo fare noi. Invece sono stati bravi loro, comunque una bella squadra latina, complimenti per loro, e noi dobbiamo sempre essere fiduciosi, perché se vediamo la testa il risultato ci sarà sempre così. Quindi io comunque sono optimista, abbiamo fatto qualche punti importanti, azioni lunghi, quello che abbiamo vinto noi, soprattutto nella prima parte della partita. Dobbiamo guardare avanti e subito per la prossima partita. Grazie.